Il Milan che vuole l'Europa League e festeggia le 100 in rosso-nero di Ibrahimović, sfida il Parma che viene dal pareggio col Bologna, 33esima giornata di Serie A Team Milan-Parma, buonasera da Matteo Marceddu. Biglia dentro con il destro, salta Romagnoli che la schiaccia, poi Ibra, Sepe. E la 10 del Milan, c'è la Noglu dentro per Bonaventura, pallone troppo potente da controllare, prova a risalire il Parma con il tocco di Caramò per Gervinio, Gervinio si distende con tre uomini, il Parma, Gervinio prova ad andare sul destro, ci riesce Gervinio! Il pallone a servire la corsa di Gervinio, preso in marcatura da Kier, Gervinio vede dentro l'inserimento di Grassi, l'area di rigore, Grassi parla l'indietro per il destro in gol di Jasmin Kurtic, è in vantaggio al Parma! Al 44esimo del primo tempo con Kurtic, che trova il secondo gol in campionato, a sorpresa a San Siro, è avanti la squadra di D'Aversa. La fa passare Cianoglu, si è mosso Tio Hernandez per aiutarlo, Chessi, la porta su, Chessi, calcia! Fran Chessi! Si è inventato un super gol! Segna per la terza partita di fila, Fran Chessi, che destro, che gol! C'è il fischio, dentro Cianoglu, cerca il colpo di testa e trova il gol di Romagnoli! Passa avanti il Milan in vantaggio, col gol del capitano, l'assist di Cianoglu, il colpo di testa di Alessio Romagnoli! È 2-1! Kier, lancio centrale, di testa a Dermacu, prolunga a Hernani per Kulusevski, che prova ad accendersi, punta l'aria, c'entra Kulusevski! La traversa, poi Gervigno, calcia malissimo! Grossa occasione costruita dal Parma! Teo Hernandez, grande chiusura, poi lasciare il pallone per Kulusevski, che la apre, verso Inglesi, Inglesi, in aria, Inglesi! Donnarumma! Grande risposta, con le gambe, per dire di no al pareggio del Parma! Buonaventura alla porta su, si era proposto Teo Hernandez, che adesso è rimasto al centro, Teo Hernandez si propone ancora, va a Buonaventura, apre verso Cianoglu, il controllo, il destro di Cianoglu! 3-1 Milan, Akan, Cianoglu! In verticale, Darmian allarga, Kulusevski, attacca dal lato corto, dentro per Darmian, che calcia! Con la spalla Donnarumma, para! E mette in calcio d'angolo! Titoli di coda, vince il Milan in rimonta, 3-1 sul Parma! E' un'altra parte, vince il Milan in rimonta, 3-1, è un'altra parte, vince il Milan in rimonta, 3-1, è un'altra parte! Grazie a tutti.